Questa è la maestosa Magnolia grandiflora, pianta originale del sud-est degli Stati Uniti d'America, ma diffusa in tutto il mondo. Pensate, può raggiungere un'altezza di 30 metri, è molto longeva e talvolta plurisecolare. Sempre verde e lattifoglia, ha una chioma piramidale con fogliame ritto dalla base all'apice. È simbolo di pudore, purezza, dignità e perseveranza. La Magnolia è nota soprattutto in Giappone e in Cina per le sue proprietà curative. La sua corteccia è in forma di decotto. Tisana viene impiegata nella medicina tradizionale cinese per il trattamento di tosse, asma e disturbi urinari e gastrointestinali. Ma può curare anche ansia e tensione nervosa, aiuta la concentrazione e la memoria e i suoi composti bioattivi hanno un effetto antiossidante di grande efficacia. Tale, sembra, da limitare la crescita delle cellule tumorali. Insomma, la natura ci regala sempre cose meravigliose. E se vi è piaciuto, amici, salvate il video e condividete. Alla prossima!